Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo episodio del Let's Play di Zelda Breath of the Wild Ok, oggi andremo, come avete richiesto voi, andremo a fare delle mini sfide Intanto mi è partito il telefono perché ha sentito la parola OK E quando senti la parola OK, anche se non dici la parola Google dopo, lui parte allo stesso Dicevo, comunque andremo a fare delle mini sfide che ci sono qua al villaggio Calbarico, come avete richiesto voi Allora, volevo fare la cucina di cocco, però la cucina di cocco è disponibile dopo mezzogiorno Quindi se non le 8 di mattina andiamo a fare prima le altre Tanto avete comunque deciso di farle, no, non è qua ma è di qua, di farle voi Di farle tutte, quindi penso di portarle direttamente tutte oggi Tanto almeno ce le togliamo dalle scatole Benvenuto, grazie Allora, che verità, un cliente Ormai in questo villaggio i giovani non usano più l'arco Che emozione vedere un giovanato prestante come te Guardate, torno con calma Noi facciamo arrivederci Te ne vai di già, oh che peccato Prima che te ne vada ti do un consiglio Se hai bisogno di soldi prova a vendere dei minerani Qualsiasi negozio potrei vendere a buon prezzo Noi riparliamo e dovrebbe sbloccarci la missione Giovane cliente, ti stavo osservando, sai Si vede da lontano che te la cavi con l'arco e con le frecce Devi sapere che il tiro con l'arco è una delle mie più grandi passioni Ti va di farmi felice? Allora impugna l'arco e farmi vedere quanto sei bravo Ci sto Piace tutto sia, non devo ancora accendere la lontana dietro la statua della rea Ci sto Un giovanato che tira con l'arco è sempre un bello spettacolo Ok, però io non ho voglia di far fuori frecce Quindi vediamo se ho una torcia Sì, ce l'ho una torcia Anche perché No, devo prendere la torcia Anche perché l'arco, le frecce ne ho veramente poche Giusto Le frecce sono di qua No, va bene, ne ho 108 Quindi si potrebbe anche fare Dai facciamolo allora con questo arco qua Visto che gli altri due si stanno rompendo Apri con questo Ok I tasti devo ancora ricordarmeli bene Perché ovviamente non ci gioco Intanto Vi devo Ve l'ho già detto Che praticamente ho Dovuto Rifare Riniziare Però non ho ancora riniziato Perché non ho ancora avuto tempo Praticamente il salvataggio Per portarvi le guide dei Sacrari E delle mini sfide Quindi quello Appena riesco Riprenderanno Comunque quelle riprenderanno di sicuro Ecco che abbiamo già completato la mini sfida Riprenderanno di sicuro Riprenderanno il prima possibile Anche perché questo gioco voglio Veramente Mi piace Ma voglio finirlo Perché se no portiamo solo praticamente questo gioco qua E mi sembra giusto anche Escludere Mi sembra sbagliato Escludere altri giochi Ok Ehi Ti ho visto Sei bravissimo Ebbè lo sai Era tanto che il cuore non mi batteva così forte Anche mio marito Nabil Arciere Ma ora non viviamo insieme Per ragioni che non ti sto a spiegare Ma era davvero Tanto tempo che non mi sentivo così Sono così emozionata Grazie mille per il fantastico spettacolo Che mi hai offerto Ti faccio un piccolo regalino Per ringraziarti Ed ecco che ci dà 20 euro più E niente di che però Meglio che niente Se mio marito la smettesse di pensare E a ricominciasse Ad allenarsi con l'arco E a tuo marito Intanto le cocò abbiamo dovuto Pensarci noi Nello scorso episodio Alle cocò di tuo marito Ok Adesso che ora abbiamo fatto Le 7.40 Quindi Allora Altre mini sfide Che ci sono da fare qua C'è la sfida Praticamente Quella del Di questo qui Di andare alla fonte della fata Sì Piacere di conoscerti Io sono Can Shin E tu Saresti Anche tu Ammi viaggiare? Sai Io sono un artista E viaggio per scovare I panorami più incantevoli Anzi Detto tramete Pare che qui da qualche parte Ci sia una fonte Di una fata radiosa Un luogo bellissimo E non solo Secondo la leggenda Chi la visita Riceve in dono Un misterioso potere Dal canto mio Ho fatto un po' di ricerche Ho scoperto Un luogo Diciamo Sospetto Ma non riesco Ad avvicinarci Ma non riesco Ad arrivarci Ahimè Ah Quell'estasi Che si prova Quando si ammira Il panorama perfetto Tu mi capisci vero Amico miandante? Certo che ti capisco Hai assolutamente ragione Ah lo sapevo ragazzi Finalmente qualcuno Finalmente qualcuno Capace di apprezzare Le meraviglie della natura Senti io non riesco A individuare L'esatta ubicazione Di questa fonte Della fata radiosa Le mie ricerche Puntano verso una zona Ma ancora Non sono riuscito A trovare la fonte Se vuoi accompagnarmi Possiamo andarci Anche subito Che ne dici Sarebbe bello E facciamo che andare Anche Oh speravo In questa risposta Il tuo entusiasmo Mi piace Dai seguimi Io non ti seguo Ti precedo Tanto in te Questa cosa Non ho mai capito Perché è una sfida principale Secondo me Non è una sfida principale È una sfida secondaria Questa qui Però me la segna Sempre come sfida principale E dicevo Tanto mi sembra Proprio che basti Fare solo La foto E fargliela vedere Se non ricordo male Noi comunque Andiamo già direttamente A fare la foto E nel caso La rifacciamo Tanto non abbiamo Fredto Dobbiamo aspettare Comunque mezzogiorno Per fare le altre Le altre sfide Ok Siamo già praticamente Belle che Quasi arrivati Quasi arrivati Perché si trova Intanto qua Si trova magari Anche il Rupiniglio No Rupiglio Rupiglio Rupiniglio Vabbè quello lì Il coniglio Eccolo qui Quello lì Ecco A cui Se si spara una freccia Ti sgancia Delle rupie Ok Questa è la fonte Della fata Magari ci avviciniamo Cauti Come si fa andare Cauti Così No Cauti Ho detto E a una fata Siamo riusciti A perderla Adesso vediamo Di recuperare Le altre Quanto meno Che quelle lì Ci possono servire Visto che il gameplay Sarà un gameplay Sarà un let's play Con soli tre cuori Io non sono neanche Più in grado Di giocare Con tre Eta cuori Queste qua Ci possono essere utili Intanto prendiamo Anche questa silentella Visto che è qua No Si prendiamo anche questa Intanto quella fatta lì È troppo in alto Non riuscirò mai A prenderla Quindi vedi Di abbassarti Abbassati Abbassati Ok Perfetto Adesso Vediamo di fargli Una bella foto Alla fronte della fata Qui Però mi sa che bisogna Farla aperta Ci vogliono 100 rupi E io non so neanche Se le ho Cominciamo allora Ad aprirla Intanto allora Io provo a lasciarvi I filmati E togliervi l'audio Quindi non sentirete Praticamente l'audio Sentirete solo la mia voce Spero che vada bene Una cosa fatta così Per il copyright Proviamo Facciamo una prova Ma che vada Vedrò di eliminarvi Comunque i filmati Nei prossimi Nei prossimi Let's play Ecco Tu Giovane Ascolta le mie parole Va bene Io sono la fatta Radiosa Cutura Un tempo In questo luogo Si trovava una sorgente Meravigliosa Nel corso degli anni Le offerte che mi vengono fatte Sono diminuite E ora Ho perso tutti i miei poteri Per questo Adesso mi trovo In queste condizioni Ti prego Anche soltanto Qualche rupia Mi può essere d'aiuto Se tu potessi darmi 100 rupie Quando avrò Riottenuto i miei poteri Potrò sicuramente Aiutarti Forza Se hai delle rupie Consegnamelo subito Per ottenere Tutti i miei poteri Ho bisogno Ancora di 100 rupie Noi facciamo Che dargliele Tanto Noi ne abbiamo Da vendere No? Di rupie Grazie per l'aiuto Ah I miei poteri Straripano Molto Molto Piccola Come Come donne Ah Che sensazione Meravigliosa Erano secoli Che non respiravo Più aria fresca Ti sono debitrice Grazie a te Ho recuperato i miei poteri E ora Come posso ricambiare? Che ne diresti Se potenziassi I tuoi vestiti? Se hai i materiali necessari Renderò i tuoi vestiti Più efficaci Vuoi provare? Con la mia forza attuale Sono in grado Di potenziare I tuoi vestiti Soltanto un pochino Allora No Non ho voglia di potenziare Però intanto Vediamo se possiamo Potenziare qualcosa Io non è che abbia Voglia di potenziare Però possiamo Già fare che potenziare Ad esempio Questi qui Visto che li stiamo usando Ok Non vi ho tolto Il filmato Per farvi vedere La prima volta Che fa la scena Ve la faccio vedere Poi dopo tolgo i filmati Ok Potenziamo gli altri vestiti Non possiamo più Potenziare questo Potenziamo Si potenzia Ok Adesso però Non ve lo faccio vedere Il filmato Ok Va andando alla scalata Ecco fatto Pensavo di poterti Potenziare altri vestiti Ma non è possibile Se ti procuri Materiali O nuovi vestiti O se riesci a restituire Le mie sorelle Il loro potere Ritorna da me Ci vediamo Ciao ciao Ok Adesso torniamo anche Con l'audio del gioco E facciamo Una foto Salva Adesso che è aperta Va bene Come foto Ovviamente Io ho pagato 100 rupie Perché è la prima fatta Che trovo L'avevo già spiegato Quando avevo fatto la missione Comunque Ci sono In base a Quante fatte Avete già sbloccato Si paga di più O di meno Questa qua Essendo la prima Paghi 100 rupie Intanto L'ho spompato E ho riuscito Ad arrivare fino a qua Adesso interagiamo con lui E ci dirà Un giorno riuscirò Ad ammirare quel luogo Avvolto dal mistero La fonte Della fatta radiosa Noi diciamo L'ho trovata E lui ci dirà Ah L'hai trovata Cosa Mi dici sul serio E allora Dov'è l'immagine Mi hai portato Un'immagine Vero Facciamo vedere La foto Questa è La fonte Della fatta radiosa E' sicuramente Molto bella Ma Me ne immaginavo Più Mistica Più elegante Adesso Profitendi Troppo però Anche te Non ti va mai bene niente Sono davvero contento Che Tu sia riuscito A trovarla Vorrei Darti qualcosa Per ringraziarti Ma non ho niente Con me Ah già C'è qualche luogo Che vorresti visitare E esplorare Conosco Hyrule Come le mie tasche Quindi se hai qualche Puro visitare Al riguardo Forse posso aiutarti E noi praticamente Qua gli chiediamo Di Spiegarci Dov'è Praticamente Questo qua Che è una Delle immagini Ricordo Che vi ho detto Che vedremo Tutte In un episodio Solo Quindi Lui comunque Lo troveremo Anche più avanti Nel gioco Ci farà Ci darà sempre Consiglio Sulle varie Foto Che ha scattato La principessa Zelda In cui noi Troveremo Il ricordo Corrispondente Quindi Una grande porta Con alle spalle Una montagna Innevata Ah lo so dov'è Partendo da qui Dirige di all'est Finché non trovi Un grande monte Innevato Si chiama Monte di Ranel Quella porta Si trova sulle pendici Del monte Si a ovest Del nevaio Di Neldran Ne sono sicuro Sono lieto Di averti saputo Dare indicazioni Spero di esserti Stato d'aiuto Ok E abbiamo Completato Anche Alla fonte Della fata Adesso andiamo giù Dovrebbe essere Quasi ora No non è ancora ora Di Intanto stavo pensando Se ci erano altre missioni Qua da fare Ma no Ci sono Cocco E Prisca Che però Facciamo che Vi evaccare Fino a mezzogiorno Cocco e Prisca Che però È tutto da mezzogiorno Uno da mezzogiorno Alle sette L'altro da mezzogiorno Alle quattro Se non sbaglio Ecco Cocco Io ho già procurato Tutti i materiali Nel caso andate a Vedervi la guida Che ho O comunque Tanto vedete Anche qua i materiali Si trovano Praticamente tutti Nel negozio Qua vicino Tranne Il mele di Ape briosa Che si trova Attaccato agli alberi E la carne Che si trova Ammazzando gli animali In giro Per iron Oggi per pranzo Farò una vellutata Di verdure sprint Cor Ro Bo Arante Possiamo definire Così questo piatto Basta mettere In un pentolone Una carota sprint Del sal gemma E del latte fresco E cuocio Di per bene Oh no Non ho più Nemmeno una carota sprint Uffa Avevo promesso Prisca Che l'avrei preparato La vellutata Di verdure sprint E noi gli diciamo Ci penso io Oh grazie Mi manca Una sola carota sprint Per preparare La mia ricetta Ti aspetto qui Però Quando fa buio Me ne torno a casa No no Ma non c'è bisogno Guarda Ce l'ho già Ecco che ci sblocca La cucina di Coco Sento due ore Di carota sprint Sì Tienila Velo io Comprata apposta Una carota sprint Grazie mille Prego Mille milioni Adesso Posso preparare Da mangiare Per presca Ai fornelli E' venuta benissimo Ce n'è anche per testa Ti va Facciamo metà Ed ecco che ci dà La vellutata di verdure sprint Adesso noi Voglio imparare A cucinare bene Come la mia mamma Ci darà Completata la missione Però parlandoci Ce ne sbloccherà Un'altra E adesso Che cosa posso cucinare Ah Provo a fare La mela Al burro Che ci faceva Sempre la mamma Prisca Prisca neva matta Gli ingredienti Solo Una mela Ed il burro Dai No davvero Per fare la mela Al burro Ti serve la mela Al burro Non l'avrei mai detto E ti manca il burro Beh ovviamente Ho finito il burro di capra Sono una buona nulla Non sarò mai brava Come la mamma Tieni Tieni il burro di capra Ma questo è Burro di capra Sì l'ho preso apposta Per farti fare Per fare questa missione Davvero Posso Grazie Aspetto un attimo Eh io aspetto Dai Su Mmm che profumino Il sapore del burro di capra È inconfondibile E il gusto della mela Rende tutto più dolce Tieni Ce n'è anche per te Ed ecco La mela al burro Ce la metterò tutta Per diventare brava In cucina E adesso potrei fare Ma certo Il piatto preferito di papà La carne in zucca scorza dura Dà un sacco di energia Mi servono La corra zucca E la carne di selvaggina Eh carne di selvaggina Ah Ho finito la carne di selvaggina Potrò usare altri tipi di carne Ma non ti avrei lo stesso sapore Del piatto che faceva la mia mamma Papà Tornava sempre Con la carne di selvaggina Quando andava a caccia Ma adesso È sempre impegnato a lavorare Sono una buona nulla Non sarò mai brava come la mamma Sì L'abbiamo capito Però la te la do io Per adesso la carne Ma questa è Carne di selvaggina Sì Ok E dice sempre le stesse robe Ok Adesso gli serve L'ultima roba che gli serve È il miele E poi abbiamo finito Anche In questi Mini sfide Che profumino Devi avvolgere E questo sapore di casa Nostro Ti dice anche per te Ok Da metterlo tutto Per diventare la brava In cucina Spero Cosa potrei Trovato La mela La mela al miele Mi piaceva tanto La mamma Hai già fatto La mela al burro Fai la mela al miele Eh Non so Continua a mangiare mela Poi non è che Faccia tanto bene Mi servono Una mela E del miele Di apropriosa Sì No Non sarei mai bravo Quanto a mamma Te lo do io Sì Sì Pericolosissimo Eh Sì Te la do io Sì Sì È proprio lui Te lo presto Sì Te lo do Grazie Prego E dai Su Su Sempre le stesse cose Su Il profumino Quindi non ricordi Sì Sì Ok Va bene Oh mamma Sì Adesso Dai Su 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 No Gli poi Non c'è la propria Nella tristezza Era anche quasi ora Sì 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 Va bene Grazie Arrivederci Adesso qua Abbiamo finito Dissi Chiedere a grandi Farò una cosa Non voglio restare Vedere La persona Con i miei piatti Più non Adesso voglio cominciare A credere Che aveva qualcosa Di originale Ok E questo È fatto Adesso dobbiamo cercare Prisca Che dovremmo Vedere Eccola qui E Facciamo Che fame Che noia Vuoi giocare Va bene A che gioco Giochiamo Dai A che gioco Giochiamo Nascondino Tacchiappo Facciamo 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 Tacchiappo Certo Io scappo E tu mi acchiappi Però Allora Nella pappa Torno a casa Dalla mia sorellina Eh Tanto ti prendo Prima Che tu Torni a casa Dalla tua sorellina Mi hai presa Che spasso Questo è il mio tesoro Segreto Prendilo tu È bellissimo Bellissimo Ok E anche questa missione Mini sfida È stata Completata Adesso C'è L'ultima Mini sfida Che è quella Delle lucciole Che dovremmo Bivaccare E aspettare Dopo le 22 Quindi adesso Bivacchiamo E aspettiamo Dopodiché Facciamo anche quella E poi ci salutiamo Per questo episodio Bivacchiamo Fino a sera E ci vediamo Direttamente Alle 22 Ok Ecco le 22 Finalmente Dico finalmente Perché Ho dovuto Anche Bivaccare Tipo Quattro volte Perché pioveva E Dopodiché Mi sono accorto Che io Le lucciole Le ho già Quindi Ho bivaccato Praticamente Per nulla Ho bivaccato Perché Praticamente Le lucciole Se no Si trovano In questo Punto qua Dobbiamo avvicinarci Pian piano E prenderle Ce ne servono 5 Vedete fare in questo Modo qua Avvicinare così E le lucciole Anche però Dovrebbero collaborare Non scappare In quel modo Lì Scappano Perché c'è sto Pirla Che corre Ok Comunque Io le ho già Quindi adesso Andiamo a sbloccare La missione Ovviamente Questa qua Come avevo già Spiegato nella guida Bisogna avere fatto Anche quella Della fonte Della fata E quelle robe lì Quindi praticamente Una delle ultime Da fare Entriamo qua Vedremo questa qui Che è di che Guarda suo marito Che dorme E gli diciamo Ehi Ma ti sembra il caso Di importunare Una ragazza In camera sua A quest'ora Eh Ma quella È La tavoletta Sceica Allora Sei tu l'errore Della grande calamità Di cui parla Sempre mia nonna Assurdo Mi sono sempre Immaginata Un vecchietto Se per noi giovani Tutta questa storia Della grande calamità Non è facile Da capire E a giudicare Dalla faccia Che hai Anche tu Mi sembra Un po' confuso Vabbè Più di voi Forse Andiamo bene Beh Il mondo È tutta una Grande confusione L'ho potuto Comunque Io sono Lasry Insieme a mia Sorella Clari Gestisco Una boutique Qui nel villaggio Vieni a trovarci Quando hai tempo E Si risiede Parlandogli La seconda volta Ci dirà Oh Tutti dicono Che le strade Sono Pericolose Di notte Quindi sono Tornata a casa Senza guardare Le lucciole Sarebbe bello Se ci fossero Delle lucciole Qui con me Ed ecco che Ci sblocca La mini sfida Le lucciole Negli occhi Adesso cosa Dobbiamo fare Praticamente Controllando Che la porta Si è chiusa Sennò ci scappano Tutte Apriamo Lo zaino La borsa E Tiriamo fuori Una Due Una Due Due Tre Quattro E Cinque Lucciole Silenti Che non sono parenti Con Albus Silente Almeno Credo Che non siano parenti Sarà tutta contenta Delle sue Lucciole Ci darà 20 Europie In teoria Oh Quante Lucciole Belle Le lucciole Grazie Vorrei darti Questo Per ringraziarti Ed ecco Ah no 50 Europie Non 20 Vabbè buona Ne ho sprecate 60 Solo per far venire Notte Che non piovesse Comunque va bene Come luccicano Che belle Come te Ma vivono poco Ma vivono poco Come sei poco romantico Ah puoi dirlo Allora Io adesso però Me le riprendo Perché comunque Più avanti Potrebbero essere utili E già che ci siamo Andiamo direttamente A fare Anche la sfida Quella Della Sfera rubata Del Sacrario Che in teoria Adesso non ricordo Più di preciso Se dobbiamo Se dobbiamo Andare su a parlare Con Impa Anzi Non con Impa Con la nipote Di Impa Ed ecco Che ci sbloccherà La sfida Dunque Maestro Link Appena ho distolto Lo sguardo Per un attimo Cosa Cosa posso fare Adesso Che è successo La sfera Hanno rubato La sfera Proprio adesso Che ero finalmente Riuscito a comprendere Il suo segreto La protezione Degli antenati Sera concessa Al prescelto Della sfera Secondo Paia Questo prescelto Della sfera Sei proprio tu Così ho passato La notte A studiare Il mistero Della sfera Senza chiudere occhio E Ho concluso Che questa Protezione Degli antenati Si riferisce A un sacrario Ancestrale Sì Come quello Che sorrasta Il villaggio E la sfera Deve essere La chiave Che apre Quel sacrario Dai Davvero Sei un genio Proprio quando Volevo dirti Tutto ciò È capitata Questa disgrazia Non facevo altro Che lucidare La sfera Da mattina a sera Senza sosta La tenevo D'occhio Tutto il giorno Chi la rubata Deve essersi Indubbiamente Intrufolato In piena notte Il fatto è che Nessuno estraneo Ha permesso Di entrare qui E nessuno Di questo villaggio O serve mai Compiere un lato Simile Almeno spero Ed ecco Che ci sblocca La sfera Rubata Qualcuno Con cretive Intenzioni Si è Intrufolato In questo luogo Sacro L'importante È che la nonna Stia bene Ma ho tanta paura Ok Link Paia Ha tanta paura E l'altro Potrebbe essere Ancora da queste parti Se puoi Resta con lei Per un po' Maestro Link Non so come ringraziare Per avermi fatto Accompagnare Tutto il giorno Ora Sento Di avere Anche io Il coraggio Di affrontare I ladri Non posso stare A piangere Tutto il tempo Ho chiesto Anche Doria In evogato Ma hanno detto Di non Avuto Nessuna A parte Gli abitanti Del villaggio Cercherò Di ricordare Tutto quello Che è successo La notte In cui è stata Robata La sfera Comunque Il colpevole Potrebbe essere Ancora Nei paraggi Se vedete I movimenti Sospetti Durante Alla notte Mi raccomando Non vi avvicinate Troppo Ok Allora Adesso Scendiamo Andiamo fuori E bivacchiamo Se è ancora Ok Bivacchiamo Fino a sera Anche qui Dobbiamo Aspettare Più o meno Verso le 22 E una Delle due Guardie Si spostierà Come ho già Spiegato Nella sfida Dei sacrali Che abbiamo Già completato Ci mettiamo Qua E una Delle due Qua La La Ad un certo Punto Comincerà A correre Correre Tra virgolette Comincerà A risalire Andare su Noi la seguiremo E Com'è che si dice E ci porterà Praticamente A sbloccare Il sacralio Sbloccare Sacralio È una parola Se battiamo Lo Lo Yiga Sblocchiamo Il sacralio Se no Comunque io Nel frattempo Che aspettiamo La Le 22 Mi scuso Se questo video È più lungo È tanto lungo Però volevo Appunto Terminare Qui Le missioni Le mini sfide Del villaggio Calbarico In modo Da Cominciare Poi Nel prossimo episodio Già Ad avventurarci Nel Verso I prossimi Obiettivi Che abbiamo Da fare Verso Le prossime I prossimi Villaggi E Andare avanti Nel frattempo Io adesso non vi farò vedere Tutta la strada Tanto l'ho già portata In Nelle guide Quindi Non vi farò vedere Tutta la strada Comunque nel frattempo Poi taglierò il video Almeno non lo dovrò più dire Alla fine Vi ricordo Che In descrizione Trovate i link Per i miei social Se volete Contattarmi Trovate anche Il link Al gruppo Di Telegram E di Discord Al quale Nel quale Vi invito Ad unirvi Se volete Avere Aggiornamenti In tempo Reale Sul Canale Sulle varie uscite Su Vari Ritardi Vari Problematiche Tutte quelle cose Lì Se volete Avere Degli aggiornamenti Li trovate In anteprima Sul gruppo Di Telegram E anche E anche Quello di Discord Adesso Quello di Discord È un po' È un po' Indietro Rispetto a Telegram Comunque Cercherò Di prendere in mano Anche il gruppo Di Discord Sempre in descrizione Vi ricordo Che trovate Anche I miei codici Amico Del 3DS Del Nintendo Switch E Xbox Live Trovate Anche Il codice Amico Di Super Mario Run E in teoria Anche quello Di Steam Che ho creato Un account Di Steam Non tanto Tempo fa Tipo un paio Di giorni fa Ho creato L'account Di Steam E Comprerò Anche dei giochi Adesso Non so Magari Porterò Non penso Ma Vediamo Magari Porterò Anche qualcosa Da PC Anche se Non credo Però Magari Più avanti Se c'è qualche gioco Che mi piace Veramente tanto Perché Se no Io Centrerei Il canale Sul Nintendo Switch E In descrizione Trovate anche Il link Al canale Di Sly86 E Di Alefree02 Con i quali Sto collaborando E tra l'altro Sul canale Di Alefree02 Sarò in live Sabato L'ora Non so ancora Dirvela Perché Dipenderà Tutto Anche Dalle live Di Paltrinox Che comunque Sia Non faremo Live Quando Farà live Lui Anche perché Quando fa live Lui Noi siamo lì Quindi È difficile Non possiamo fare La live noi Perché Seguiamo quella Di Paltrinox Quindi Dovrebbe finire Tornare 5 Quindi noi Dovremo Sabato Dovremo iniziarla Verso le 5 Comunque Nel caso Se vi interessa Vi invito ad unirvi Al gruppo Telegram Dove avrete Aggiornamenti Anche in quel senso Lì Detto questo Siamo arrivati Praticamente E adesso Vi faccio vedere Come perdere Contro Una Iga Lo so Che sei là Esci fuori Non nasconderti Sono qui Non c'è bisogno Di gridare Siete stati voi A rubare La sfera Che paura Mi fai Allora Questa sfera È davvero Così importante Per il vostro Villaggio Perché L'avete rubata Mi sorprendi Con questa domanda Dorian Proprio tu Che hai abbandonato La nostra banda Sai meglio Sai meglio di tutti Cosa significa Una scelta del genere Però Devo ammettere Che hai fatto Un ottimo lavoro Fino all'ultimo Ma penso Ero dopo Sistemarti Prima di tutto Ha niente A niente a ro Quello spadaccino Che ama Nascondersi Tra l'altro Non ho neanche Armi Adesso che mi viene In mente Aia Se non Eliminiamo Chissà cosa potrebbe fare Agli abitanti Del villaggio E ucciderli Tipo Aspetta un secondo Che devo vedere Anche che armi Ho Che mi sembra Che più che Esatto Più che niente Non ho niente Allora Con cosa Proviamo Mi piace Sparecare il pugnale Da guardiano Però È l'unico Al momento Aspetta Aspetta Il mio scudo Meno male Che vola Fata No Lo scudo Lo scudo Aspetta Un secondo Che prendo Lo scudo Aspetta Un attimo Che come Sei agitato Ok E adesso Te le suono Con Questo Meno male Che vuole Un'altra Fata In teoria Dovrei averne Tre Quindi Ancora Una Dopo Questa Sì Ok Adesso Non ne ho più Quindi Se sono morto Sono morto Ok Sono morto Bene Comunque Dovrei In ogni caso Farcela Prima o dopo A batterlo Prima o dopo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sicuramente l'unico desiderio di Paya è anche il nostro, è quello di esserti d'aiuto. E ora è tempo di riporre la sfera su suo piedistallo. Ok. Ce lo trovo il piedistallo, eh? Non vedo niente. Sono le foglie. Ok, come al solito vi ho saltato l'animazione dell'uscita del Sacrario, adesso vi salto anche l'animazione di entrata del Sacrario. Oh! Un Sacrario! Ma dai! Allora la sfera è davvero la chiave per accedere al Sacrario. Ma se me l'hai detto tu! Maestro Link, scusa la... Scusa la sfrontatezza, ma ti prego di mantenere il segreto su ciò che è successo. Non voglio far soffrire ulteriormente le mie innocenti bambine Coco e Prisca. So che non basta a espiare le mie colpe, ma ad oggi in poi proteggerò il villaggio e la mia famiglia a costo della vita. E... vita. Beh, non ti voglio male, però... Non è che ne hai ancora tantissima da vivere. Eh, visto così, occhio croce. Però sì, e sul fatto che non parlo... Tanto non parla Link, quindi è inutile anche Dio almeno di non parlare. Non parla. Ok, ci vediamo dentro. Ok, siamo all'interno. Adesso dobbiamo andare praticamente a prendere questo scrigno. Contenente uno spadone dell'intuizione. E prendiamo anche il nostro emblema del trionfo. Come al solito, non ve lo faccio vedere, ci vediamo fuori. Bene, abbiamo finito anche questo sacrario, siamo alla fine dell'episodio, però prima di concludere, finché ce l'ho in mente, vado dalla Dea, visto che abbiamo dieci emblemi del trionfo, vado alla statua della Dea a prendere dei porta-vigori. E intanto vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se volete seguire questa serie o le altre serie che sto portando e che ho intenzione di portare più avanti. E di passare dalla descrizione, dove troverete i vari link per contattarmi sui miei social. I vari codici amico, come ho già detto prima. Il canale di Sly86, con il quale sto collaborando, e il canale di Alefree02, anche lui con il quale sto collaborando, con il quale sarò in live. Sabato pomeriggio, no, ho sbagliato, non voglio il porta-cuore, voglio il porta-vigore. Ok. Porta-vigore preso. E adesso io con questo vi saluto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!